Il 2 novembre è la giornata dedicata alla commemorazione delle persone scomparse, il giorno in cui si ricordano i cari defunti facendo visita ai cimiteri e portando fiori sulle tombe. In vista dell'aumento di affluenza delle persone e per agevolare i disabili d'anziani nella fruizione delle strutture, Arezzo Multiservizi, l'azienda partecipata che si occupa dei 54 cimiteri comunali, ha così deciso di potenziare l'assistenza e la vigilanza nei cimiteri, mettendo a disposizione il proprio personale qualificato. I dipendenti, oltre ad essere d'aiuto alle persone in visita, vigileranno anche sulla loro sicurezza e al fine di prevenire situazioni di disagio e difficoltà, la società ha anche provveduto ad installare nel cimitero cittadino 8 colonne SOS. In occasione della festività dei morti, i cimiteri comunali di Arezzo saranno aperti dalle 8 alle 17 per consentire così la visita ai cittadini ai Camposanti. Sabato 2 novembre, inoltre, si svolgeranno ad Arezzo le consuete celebrazioni. Si inizia con la commemorazione dei caduti in guerra alla presenza delle massime autorità cittadine. Alle 9.30 poi il tradizionale alza bandiera presso il riquadro militare del cimitero urbano con la deposizione della corona dall'oro. Alle 10 sarà poi celebrata la Santa Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre. Nel pomeriggio, infine, per onorare il giorno in cui la chiesa celebra i defunti, l'arcivescovo Riccardo Fontana presiderà la funzione religiosa alle 15 sempre al cimitero monumentale.